Stiamo lavorando alla realizzazione di due campagne di immagine per la nostra professione. Punto 2. Formazione degli imprenditori con particolare attenzione alla gestione del personale e al riconoscimento. Punto 3. Promozione dei giovani. Aumentare l'attrattività degli apprendistati e garantire un numero sufficiente. Punto 4. Ulteriori qualifiche di candidati laterali per svilupparli rapidamente. Infine, dobbiamo lavorare anche con dipendenti che potrebbero non essere ancora ben formati quando iniziano a lavorare. In inglese si dice hire for attitude and train for skills, che vuol dire in italiano impiegare per l'attitudine e formare per le competenze. E l'ultimo punto, punto 5. Condizioni di lavoro più interessanti. Offerte di lavoro più competitive nel nostro settore.